Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Andiamo oggi a continuare la nostra rubrica Pillole di gioco, una rubrica a formato podcast in cui in tono colloquiale, così intimo, andrò a raccontare quelle che sono state le partite giocate ai tre sistemi LCG durante questo mese. È una rubrica nuova, ma che vedo che suscita discreto interesse, per cui mi fa piacere portarla avanti. Spero appunto che così sia anche per voi. Io vi ricordo prima di iniziare, se vi piace il canale, iscrivetevi, che è un modo semplice per farlo crescere. Tra l'altro il canale ha raggiunto da poco i 1000 iscritti, che è un grandissimo traguardo. Poi seguiranno degli aggiornamenti su questo tema, penso che farà un contest per gli iscritti. Insomma, in qualche modo andremo un po' a festeggiare questo. Il LUDCG, l'evento, di cui vi lascio poi qualche link in descrizione, che stiamo organizzando a maggio, ha superato i 160 partecipanti, per cui sarà una bolgia veramente bella. Non vedo l'ora di vedere tutti coloro che si stanno unendo a questa grandissima due giorni di gioco. Se non sapete che cos'è, trovate alla fine di questo video un link alla spiegazione di questo evento, in cui al momento della recitazione è ancora possibile iscriversi. Tutto sommato lo sarà fino a pochi giorni prima, anche se i posti sugli eventi stanno cominciando ad essere in esaurimento. Insomma, unitevi perché vale davvero la pena. Allora, come tutti gli altri pillole di gioco, in questa mezz'oretta, probabilmente anche meno, andrò un po' a raccontarvi quelle che sono state le mie esperienze di gioco, non tanto a livello così di tattico, strategico e così, ma più che altro a livello di racconto sui tre sistemi principali che appunto seguo e che gioco, che sono appunto il Signore Gli Anelli, Marvel Champions e Arkham Horror. Allora, purtroppo su Arkham Horror questo mese non ho giocato niente, anche se in realtà è un po' tipico del mio approccio ad Arkham Horror. Chi segue il canale sa benissimo che quando io gioco ad Arkham Horror, di solito inizio una campagna e la finisco, quasi non mangio, non dormo, non faccio altro nel tempo libero, se non quello di giocare quella specifica campagna. Per cui normalmente è sempre un'esperienza abbastanza totalizzante, quindi non la dilaziono, se vogliamo, nel tempo, come può essere per gli altri due sistemi che sono un po' più semplici da questo punto di vista, ma quando la inizio tendo a volerla finire e quando dico volerla finire intendo dire che non faccio nient'altro. Quindi in realtà il mese di febbraio non ha avuto per me grandi occasioni di giocare ad Arkham Horror. So che in associazione da me è partita la famosa Lega Arkham, che così, per raccontare qualcosa anche su Arkham, è questa serata al mese circa in cui 15, mi sembra, partecipanti, mischiando i tavoli così via, fanno degli scenari, giocano degli scenari staccati rispetto a una campagna e fanno dei punteggi a seconda di come si posizionano rispetto alle risoluzioni, rispetto agli indizi ottenuti e così via. È una bellissima occasione di community. Se c'è qualche partecipante a varie community, all'associazione, a gruppi di gioco, diciamo al di là dell'aspetto domestico, volesse avere qualche informazione in più su come stiamo costruendo, come Sergio e Fabio, che sono i due amici referenti di questo tema, stanno costruendo questa cosa, ce lo scriva in chat, ce lo scriva nei commenti. Saremo più che felici di condividere un po' questa cosa che riteniamo veramente divertente, soprattutto un po' non convenzionale per quello che è Arkham Horror, perché il rischio, se vogliamo, che poi è anche uno dei suoi punti di forza, il rischio di Arkham è proprio un po' quello che si chiuda su se stesso come esperienza di gioco, in cui si trova un gruppetto e si gioca la campagna in quel gruppetto lì, il che non è ovviamente evidentemente un male, anzi è un'esperienza particolarmente intensa e totalizzante, però abbiamo pensato e deciso ormai da un paio di anni di impostare questa lega Arkham, anche proprio per dare la possibilità di fare un'esperienza diversa, se vogliamo anche più plug and play, se vogliamo anche più casual, e so che stanno giocando di scenari degli investigatori paralleli, non semplici, mi dicono, non semplici, non ho avuto occasione di giocarle, magari più in là, nei prossimi mesi, potremo raccontare qualcosa su questo in maniera un po' più, diciamo, dettagliata. Per cui in realtà, amici di Arkham, siamo partiti con Arkham, ma purtroppo non ho molto da raccontarvi a livello di gioco, di quello che è stato fatto, quindi magari ne riparleremo il prossimo mese, chissà. Devo dire, per concludere su Arkham, che in questi giorni mi è venuta assolutamente voglia di rigiocare, così, in maniera sporadica, la pod, quella dei Guardiani dell'Abisso. Non so perché ho avuto questa sensazione, forse ho visto un documentario, qualcosa che ho visto delle piramidi, non lo so. Comunque, in generale, mi è venuta un sacco di voglia di rigiocare quella pod, e chissà che mai, chissà mai che magari, appunto, non ci sarà occasione di provarla. Di per certo, nei prossimi mesi andrò a giocare il labirinto della follia e anche macchinazioni temporali, perché sono eventi che faremo all'UDCG e quindi sarà necessario fare un po' di rodaggio prima per oliare tutti i vari meccanismi che sono scritti sul regolamento, ma che poi, all'atto pratico, devono essere un po' memorizzati, capiti e padroneggiati per poter, appunto, gestire gli eventi. Per cui, amici di Arkham, in realtà ci aggiorniamo più in là su questo tema. Andiamo a parlare del Signore Gli Anelli. Allora, Signore Gli Anelli, febbraio doveva essere per me un mese pazzesco, perché con alcuni amici di Magenta, Walter e, insomma, un gruppetto di più di dodici italiani avevamo prenotato per andare alla Lur of Middle Earth. Per chi non sa cosa è la Lur of Middle Earth, è questo ritrovo annuale in questo bellissimo castello in Germania, il Castello Stalek, deve essere questo più o meno il nome in tedesco, che è questa convention annuale a tema, diciamo, terra di mezzo, in cui si ritrovano due categorie di giocatori, quelli del Signore Gli Anelli e del CG e quelli del Middle Earth CCG, se non sbaglio. Sì, Middle Earth CCG, che è un gioco ancora più vecchio. Insomma, è una reunion in questo bellissimo castello adibito poi a Ostello della Gioventù nella quale si fanno due giorni e mezzo di, come dire, di gioco, con achievement, scenari random, promo, ricchissime, insomma, ci sono veramente tantissime cose. La community italiana quest'anno ha aderito in massa con, appunto, sembreranno in 14, però tutto bello, io non sono riuscito, non sono potuto andare. Purtroppo ho avuto delle questioni personali che non mi hanno permesso di esserci e che, chiaramente, da un punto di vista ludico, è stata molto una sofferenza, anche se, come dire, pur essendo nel gruppo e ringrazio i compari che invece sono andati, mi hanno, insomma, fatto sentire parte del gruppo, mi scrivevano, mi mandavano le foto, per cui questo, in qualche modo, mi ha rincuorrato molto e li ringrazio. Purtroppo non sono potuto andare e quindi questo mi ha lasciato un po' un senso di vuoto ludico, soprattutto per non partecipare a questa bellissima esperienza, in questa location, come detto, incredibile, esperienza che, in realtà, non ho mai fatto, ma che sicuramente è stata l'ispirazione un po' per tutto il tema degli eventi che in questi anni stiamo, sto organizzando, e che, appunto, avranno un suo punto sicuramente d'arrivo e di bi-partenza, se vogliamo, ma sicuramente d'arrivo in quello che sarà l'evento di maggio dell'UdCG. Per cui tutta questa premessa per dire che mi è rimasta molta amarezza per questo febbraio, da un punto di vista ludico del signor Nianelli e del CG, ma, 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 sono riuscito comunque a fare due cose. Il primo, diciamo, che vi racconto così, che vi avevo già accennato in qualche precedente stato del gioco, e il secondo, che, invece, è stata una cosa, come dire, così, nata un po' come battuta, ma è stata bellissima, e adesso ve la racconto. Allora, la prima cosa che ho fatto, se vi ricordate, in qualche altro speciale, avevo detto che avevo cominciato a studiare un one-deck, cioè uno di quei mazzi che possano affrontare tutte le avventure del gioco, e così, insomma, come sfida, no? Come sfida quella di avere un mazzo, diciamo, in qualche modo che sia, che possa essere considerato un mazzo personale, o che prenda spunto ad altri, insomma, l'idea è costruire un mazzo che possa funzionare in tutte le avventure del gioco, e, diciamo, l'ho costruito, l'avevo provato, come vi avevo detto, nei mesi scorti, su Varequest Random, e a questo punto ho iniziato seriamente a testarlo sulle avventure, partendo, ovviamente, in modalità progression, cioè, nel senso, dalle prime avventure del corsetto e poi del ciclo di boss 4. Non ne ho giocate tantissime, non ho avuto tantissimo tempo, se devo dire la verità, di approfondire questa cosa. Ne ho giocate circa una metà, perché ho giocato, diciamo, attraverso boss 4, viaggio lungo landing, ho lasciato perdere ad Al Guldur, che di solito anche in questa One Deck si fa più in là, proprio per capire se il mazzo riesce a affrontare varie avventure prima di arrivare ad Al Guldur. ho giocato la caccia Gollum, lo scontro alla carroccia, e probabilmente basta. Mi sembra che ho giocato 4 avventure, in modalità Nightmare, il che in realtà, come dire, avventure in true solo, anche se di molti anni fa, in modalità Nightmare, sono sempre avventure che vanno, con un mazzo che è sempre quello, sono sempre avventure che vanno un attimo, come dire, approcciate e digerite. Questo non è che accendo il computer o in tavolo il mio mazzo e gioco e tutto, sono sempre avventure che richiedono un po' di tempo, specificatamente in quanto Nightmare, per godersele è anche bello e necessario, insomma, rileggersi un po' il flavor, capire perché si è arrivati a quel punto e così via, quindi mi sono gustato questo ripercorrere il ciclo di boss 4 con calma, spero che questo mese che viene riuscirò, quantomeno se non a finirlo, a quasi a finirlo, non so se riuscirò a fare Dol Guldur, perché comunque Dol Guldur a livello Nightmare, pur avendo un mazzo che ha l'ambizione di essere un one deck, non è assolutamente generalmente una passeggiata, per cui in realtà vediamo, è un'attività che porto avanti sporadicamente, ma insomma mi piace anche perché il mazzo l'ho montato, per cui è sempre lì, gli scenari ce li ho ben catalogati nella libreria dei giochi, per cui quando voglio giocare in realtà riesco abbastanza in maniera semplice a fare il setup e a utilizzare sempre lo stesso mazzo che è lì, bello, imbustato e pronto sempre a giocare. Non vi racconto ancora gli eroi, forse l'avevo già detto, c'era Wind Attica, Beregond Spirito e così via, vediamo, vediamo se più là diventerà anche un progetto da portare in qualche modo sul canale, o se rimarrà solo una legittima, come dire, attività di divertimento privato e personale, come è anche giusto che sia. E questa è stata la prima delle due grosse attività sul Signore di Anelli, l'ultima, la seconda più che l'ultima, è stata bellissima. Qualcuno magari ha anche visto un video, uno short che ho pubblicato ormai qualche giorno, qualche settimana fa, ringraziando l'ospitalità di Filippo, Emilio e Claudio, sono andato a giocare la battaglia dei campi del Pelennor, che è una delle avventure dell'espansione saga, la prima dell'espansione, la montagna di... no, no, scusate, l'ultima dell'espansione, la fiamma dell'Ovest, The Flame of the West, la fiamma dell'Occidente, vedremo come Asmodee tradurrà la prossima, diciamo, espansione, anche se ragionevolmente sarà il ritorno del Re, perché ha fatto la Compagnia dell'Anello, le due torri, il ritorno del Re, però chi si ricorda, anticamente, le due deluxe erano The Flame of the West e The Mountain of Fire, quindi la montagna di fuoco e la fiamma dell'Occidente. Emilio, Claudio e Filippo la stanno giocando in modalità campagna, bellissimo, ormai da luglio 2022, quindi, diciamo, sono passate un po' di tempo, però, giustamente, giocare tutta la saga sono 21 avventure, diciamo, 18 ufficiali, più due pod, più una long extended party, che è Scoring of the Shire, e quindi, così, in questo impeto di volere a tutti i costi recuperare un'esperienza che avevo perso, che era quella della lura, raccogliendo un invito che mi era stato fatto anche da tempo, insomma, di partecipare a una delle loro serate, mi sono unito, e tra l'altro coincidenza ha voluto, perché non era preparata questa cosa, che mi unissi a un'avventura super epica, no? Perché tra tutte le battaglie del Signore di Anelli, diciamo, il Fosso di Enno, il Cancello Nero, e le battaglie dei Campi del Pele, non sono sicuramente quelle più belle, e in qualche modo epiche e coinvolgenti, no? E prima di raccontare come è andata la partita, che è stata veramente bellissima, un bellissimo aneddoto su questa cosa, no? Loro stanno giustamente giocando la campagna in qualche modo tematica, approvo questo approccio, tant'è che avevano, diciamo, tra gli eroi che portavano al pelle, non avevano Eowyn, Merry, Pepino, Gandalf, Beregond, quindi i due gemelli Eladon e Elroir, tra l'altro erano suddivisi in questo modo, perché Claudio portava Mazzonoldor, Arwen, Eladon e Elroir, Filippo portava un mazzo in qualche modo Gondor, diciamo, che comunque rappresentava la difesa di Minas Tirith, quindi Gandalf, Pipino e Beregond, ed Emilio portava un, diciamo, un classico line-up, se così si può dire, Rohan, Merry, Eowyn e Theoden, quindi, insomma, veramente più tematico di così non poteva essere, infatti sono stati bravissimi in questo senso, e quindi quando abbiamo detto, ma che mazzo vuoi fare, che mazzo non vuoi fare, così diciamo che l'espansione saga permette di unirsi e di uscire in corsa, no? In questo senso è molto modulabile, poi comunque è sempre bello quando si riesce a giocare in quattro, allora inizialmente avevo pensato un mazzo, diciamo, tematico che contemplasse Eomer, che mancava, Lothiri e Ledimrail, perché avevano un loro senso all'interno della battaglia dei campi del Pelenn, quando poi ci si è messi a guardare, insomma, un po' le carte, mancavano alcune carte chiave di questo mazzo, che aveva un senso, come mazzo, diciamo, di attaccare in area di allestimento, con Eomer viola, Imrail rosso e così via, Allora Claudio ha suggerito un altro mazzo di una meccanica che a me è piacentissimo, che appunto è quella di attaccare in area di allestimento, mazzo che utilizza un eroe Alep, Erubrand, Daner e Fastread, mazzo spirito-tattica, bellissimo, l'idea è quella che tu prendi il nemico, te lo ingaggi, lo ributti in allestamento con Fastread, lo fai fuori con Daner, appeschi una carta con Erubrand, line-up molto bello, molto divertente, eroi, tutti i Rohan guerrieri, carte generalmente, Rohan, questano, attaccano, combattono e così via, meccanica molto divertente, ma la cosa ancora più divertente è stata che, qualche giorno prima, se non addirittura il giorno prima, parlando un po' degli eroi tematici e così via, io mi sono ricordato, e, insomma, nell'ambito della discussione, è venuto fuori il fatto che Fastread fosse un personaggio che realmente combatté nei campi del Pelennor, perché io avevo questo ricordo che Fastread, quando uscì con l'espansione delle sabbie di Arad, perché originariamente, pur essendo stato ristampato, ero uscito nel ciclo di Arad, mi ricordo che, insomma, avevo letto che Fastread era uno dei, dei roirrim che morì durante la battaglia dei campi del Pelennor, no? E la cosa divertente è che poi, chiacchierando e andando a controllare le, come dire, le vite di Daner, Eh, scusate, Daner, Fastread ed Erobrand, è venuto fuori che tutti e tre questi personaggi furono cavalieri roirrim che combatterono e morirono ai campi del Pelennor, per cui più tematici di così non poteva essere. Devo dire che questa cosa ci ha gasato da morire, personalmente mi ha gasato tantissimo, c'è la famosa canzone alla fine della battaglia dei campi del Pelennor, in cui un menestereo di Rohan racconta i morti della battaglia eh, di, sotto Minastirit ai campi del Pelennor, tra cui compaiono vari personaggi, Grimbold, piuttosto che The Orwine, piuttosto che vari personaggi che ci sono poi anche nel gioco di carte, e anche i tre, Erobrand, Daner e Fastread. Quindi con queste premesse, eh, sono andato a giocare con loro, tra l'altro, una sera che diluviava, a buio, pesto, cioè c'è stato anche un aspetto ascettico, se vogliamo, in questa, in questa trasferta, perché in realtà non abitiamo vicinissimo, abbiamo giocato a battaglia dei campi del Pelennor, finalmente, scusate tutta questa, questa premessa, ma era per, insomma, per caricare un po' il tema, ed è stata bellissima, è stata bellissima, è durata 8-9 turni, mi sembra, eh, Minastirit, che ha questo contatore di punti vita, che non mi ricordo se era 50 o 70, in base al numero di giocatori, ha chiuso a un punto vita, abbiamo dovuto attendere l'arrivo di Aragorn, che era arrivato sette turni dopo, bellissima, davvero, realmente bellissima, per poco non siamo riusciti a far sconfiggere il Re Stregone da, da Eowyn, perché è uscita una Trechery che ha blancato i testi, quando avevamo fatto tutti i conti, eravamo tutti tranquilli, che il turno dopo avremmo vinto, e è uscita una Trechery che ha blancato il testo di Eowyn, per cui Eowyn non poteva più usare la sua abilità, quindi sono stati poi in Oldor di Claudio a far fuori il Re Stregone, al quale però tutti eravamo riusciti a dare dei colpi nel corso degli ultimi turni, una carta ombra, quella che è un fardello che si porta dietro da Moria, quella che quando rivelata l'ombra, non conti la difesa del personaggio difensore, per cui per tutta la partita questa dannata carta ombra non usciva mai, e quindi avevamo sempre paura di parare con Bergon, nonostante avesse il destilero corazzato, lo scudo di Gondor, quattro coraggi inaspettati, avevamo stra paura di usarla, per cui gioca intorno a questa cosa, ma il Re Stregone era immune alle carte dei giocatori, anche le carte ombra del Re Stregone erano immune agli effetti del giocatore, veramente un'esperienza favolosa, il mio mazzo è andato benissimo, grande Claudio che l'aveva suggerito, Daner è stato equipaggiato con Glamdrink e una lama dello Vesturia, e attaccava in area di allestimento come se non ci fosse un domani, da solo ha fatto fuori Natskul, Orchi, Soldati Hardrim, un Mumak, veramente è stata una roba stupenda, stupenda, tra l'altro siamo partiti anche male con uno strano snowball di Treachery, che ci ha fatto ingaggiare dei nemici al turno 1, insomma veramente veramente bella, soddisfacente, lunga lunga, perché abbiamo finito piuttosto tardi, sono arrivato a casa un'ora che veramente non vedevo quelle ore, da quando avevo non lo so, quando andavo al liceo forse, però è stata veramente veramente bella, infatti ne approfitto per ringraziare i miei compari di gioco, perché ecco, incredibile, e poi ci spostiamo verso Marvel, incredibile come questo gioco ti regali veramente quelle emozioni che hai quando leggi il libro, cioè ci è sembrato proprio di rivivere veramente la storia, un po' il flavor, un po' le carte, un po' le meccaniche, le meccaniche sono strepitose, la battaglia dei campi in Eppene non sono cinque stadi, nel quale nel primo stadio c'è la ritirata da Osghiliat, e quindi devi correre in soccorso degli alleati, poi hai il re stregone che attacca con Grond, con questa meccanica di questo Grond, che è l'Ariete, il martello dell'Oltretoma che butta giù la porta di Minastility, che devi sempre decidere quando attaccarlo, quando non attaccarlo, poi hai lo stadio 4, che è la carica dei Rohirrim, quindi dove metti in gioco un alleato, e in quel turno lì, tutti i progressi possono essere assegnati come danni agli alleati, quindi rappresenta proprio questa carica di Rohan, che in qualche modo noi abbiamo cavalcato, anche se non si è riusciti appieno, si è riusciti a far fuori qualche Nazgul, ma non tutti, fantastico, lo stadio 5 che arrivano gli Olifanti, e gli Aradrim che hai fatto scappare al viaggio al crocevia, veramente superlativa, io l'avevo giocata più volte, anche se l'espansione saga, chiaramente è difficile giocarla a one shot, però come dire, la riconsidererò in questo senso, ma non l'avevo mai giocata in 4 giocatori, ed è stata veramente bella, quindi confermo quanto dissi in uno dei video di tanto tempo fa, che l'espansione saga rappresenta un po' uno dei gioielli ludici, se vogliamo, in assoluto, perlomeno della mia esperienza, ma sicuramente degli LCG, lo confermo nella maniera più assoluta, per cui grazie ai miei compari di viaggio, sicuramente non finisce qui, perché l'espansione saga ormai è quasi finita, ma intanto archiviamo questa bellissima giocata, che in qualche modo mi ha un po', come dire, ha un po' lenito quella sofferenza ludica che ho avuto nel non poter andare alla lure of the Middle Earth in Germania. Spostiamoci ora verso Marvel, ho parlato a sufficienza, però ci tenevo, perché è veramente stata bella, insomma, il tono di questo podcast vuole essere proprio questo qua, un po' colloquiale, per cui ci tenevo anche così a raccontarla un po' in maniera colloquiale, per Marvel, allora Marvel è stato in realtà, da un punto di vista di partite, il sistema su cui ho fatto di più a febbraio, ho giocato, come sempre, qualche partita, spot più facilmente, in true soul e così via, e poi ho fatto quattro partite in multiplayer, due in presenza e due online, partiamo dalle due in presenza, verso l'inizio mese, abbiamo giocato in associazione in quattro, l'uomo sabbia, utilizzando gli eroi what if, cosa sono questi eroi what if, è una modalità fan made, che abbiamo deciso di proporre all'Udcg, quindi chi giocherà il sabato, potrà utilizzare questa modalità, in cui sostanzialmente, si scelgono due eroi, o meglio un alter ego e un eroe, otto carte d'ammazzo, otto carte d'ammazzo, e si costruisce un eroe, che in qualche modo è un what if, quindi potrebbe essere un Tony Stark, Captain America, oppure uno Steve Rogers, Iron Man, così per intenderci, quindi ci si sbizzarrisce, il più possibile, per esempio io quella sera lì, ho portato, un Carol Danvers Gamora, così, invece al mio tavolo, c'era Marco, che ha portato un Logan Osso, che era Logan più Colosso, Silvia che invece aveva portato, un Adam Spider Woman, qualcosa del genere, Adam Warlock Spider Woman, quindi carino, carino come impostazione, abbiamo giocato in quattro, l'uomo sabbia, l'uomo sabbia è uno scenario, abbastanza semplice direi, è il primo scenario, dell'espansione sinistra intenzioni, giocato però non con i set consigliati, ma inserendo il set di interferenze ricorrenti, che è quel set in cui c'è Electro, per cui questa sfida era di giocare l'uomo sabbia, con questi due set, Rhino ed Electro, e devo dire che è stato molto divertente, molto divertente, perché i set incontri di Electro funzionano andando a scartare carte, e la meccanica dell'uomo sabbia è proprio quella di scartare carte, per cui che cosa significa questo? che i due set modulari, o meglio, il set dello scenario e il set modulare, scombavano benissimo tra loro, erano veramente perfetti, cioè proprio tutti e due puntavano, uno con la meccanica della sabbia, che se tu non la tieni bassa, man mano ti fa scartare carte, l'altra invece, con la meccanica di Electro, che ti fa scartare carte, se c'è Electro devi mettertelo ingaggiato, e così via, funzionavano benissimo, è venuta fuori una partita brutale, ma brutale nel senso che è durata poco, perché siamo arrivati a un punto dove o si vinceva o si perdeva, il che è stato apprezzabile, perché in realtà altre partite poi sono molto più lunghe, in questo caso la partita è stata ragionevolmente nei limiti di una serata, ma anche meno, bella, 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 abbiamo vinto, non senza fatica, ci siamo proprio divertiti, perché secondo me lo scenario si prestava tantissimo a uno scenario divertente, non particolarmente difficile, ma nel quale insomma bisognava un po' tenere il piede puntato sull'acceleratore per evitare di perdere di fatto, perché poi lì magari non vai a perdere per via dei danni, perché l'uomo sabbia non picchia tantissimo, ma perché ogni volta che si innescano le variabilità va a millare il mazzo, e millando il mazzo che cosa succede? Che ti mette segnalini di accelerazione, quindi magari vai a perdere per trame, con noi non è successo, ma ci siamo dovuti stare attenti. L'altra partita live che ho fatto in associazione è stata di giocare sinistro, mister sinistri, in tre, all'interno della campagna associativa che abbiamo iniziato in autunno e che ormai giungerà la conclusione nel prossimo mese. Abbiamo giocato sinistro in tre e io ho utilizzato Angelo Protezione che è un pezzo che mi piace abbastanza, devo dire che è molto divertente, anzi no, scusate, ho giocato Angelo Leadership, sì, non Protezione, avevo anche un mazzo Protezione, ma alla fine l'ho montato Leadership con un mazzo molto carino che si basava sugli alleati aereo e così via, e al tavolo ero con Marco e Deema che hanno portato un Spectrum Rosso, Mena come un Fabbro, e Deadpool con l'aspetto pull, Deadpool è sempre un po' eclettico, partita che abbiamo vinto non senza fatica, l'abbiamo giocata a livello standard e ci si è divertiti un botto, cioè abbiamo impostato la partita dicendo, ragazzi, partita di ignoranza, per cui abbiamo proprio applicato alla lettera quello che è il concetto del blip, cioè quando arrivi a un punto poi da quel momento lì meni e basta, per cui mi sembra che noi abbiamo tenuto basso la minaccia di sinistro allo stadio, forse addirittura allo stadio 1 o 2, quello che insomma prima che si potenzi ulteriormente, anche grazie agli interventi del mio mazzo azzurro che insomma tendenzialmente puntava a intervenire, mentre invece quello di Ema e di Marco puntavano a menare sostanzialmente, e poi a un certo punto abbiamo detto vabbè, mancano un danno allo stadio 1 e 54 danni allo stadio 2, ce la facciamo a farcela, e abbiamo fatto un po' di conti, l'abbiamo mandato allo stadio 2, abbiamo fatto la valanga di danni che potevano fare ma ci siamo fermati tipo a 8, una roba così, quindi abbiamo detto va bene, andiamo tutti e tre in alter ego, questo criminale ha tramato come un pazzo, cioè ha fatto fuori due stadi di criminale praticamente arrivando allo stadio 3 in un'unica attivazione e mettendo su tra l'altro segnalini accelerazione perché ha finito il mazzo, perché Deadpool è morto per un attacco che non ci aspettavamo eccetera eccetera, però siamo riusciti a resistere a questo turno di panico paura con tra l'altro sette incontri dei ragazzacci che si attivavano col teamwork e così via, panico paura, tre carte incontro a testa, insomma, macello, devasto, e alla fine però ci siamo divertiti, abbiamo portato a casa pochissimi punti vita o Summer con un punto ferita rimanente, è stato super divertente l'approccio ignorante che però ha pagato e soprattutto come dire, ci ha fatto passare una serata molto leggera, molto divertente senza star troppo a preoccuparsi che le mosse erano ottimizzate, che avremmo potuto far così, quindi abbiamo giocato i mini turni cauti come giusto che sia, ma poi a un certo punto abbiamo detto ma ci crediamo, dai ci crediamo, ma siamo sicuri, siamo sicuri, sì dai, siamo sicuri, e poi con la coda tra le gambe siamo tutti andati in alter ego quando ci si è resi conti che non riuscivamo in qualche modo a steccare il criminale in quel turno lasciandolo tramare in vero sì, bella, bella partita, divertente, e quindi il prossimo mese faremo Strife. Le altre due partite che ho giocato sempre in multiplayer le ho giocate online e abbiamo finito con Roby la campagna comunitaria going viral giocando gli ultimi due scenari, Nebula e Ultron. Ora, bellissima esperienza la campagna going viral, quindi chi sente questo podcast si unisca al server Discord di Rovera Gondor perché troverà una community appassionata che ha voglia di fare anche appunto campagne online, di giocare insieme e così via. Nebula è stata una bella remata, abbiamo sempre utilizzato Ghost Spider e Miles Morales, costruito dei mazzi un po' particolari, cioè non un po' particolari, però con attenzione all'approccio con Nebula che non aveva Gregari, quindi io sono stato giustizia, Roby è stato protezione e così via. Tra l'altro ringrazio Tiziano perché ci ha fatto aperto un mondo regolistico su un tema che onestamente fa un po' ridere se vogliamo, però in realtà andate a vedere il video di Ghost Spider e Miles Morales contro Nebula perché in quella prima parte in quella introduzione vi lascio alcuni commenti regolistici sulla differenza tra i danni subiti e i danni inflitti, il robusto quando si apri e così via. È una roba che ci ha fatto storcere un po' il naso a tutti che l'abbiamo commentata, però tant'è quello era l'approccio giusto e regolistico. E Nebula è andata così. Ultron invece è stata fantastica, fantastica, abbiamo giocato Ultron a livello esperto, anche qui abbiamo cambiato di nuovo gli approcci, ho usato Miles Morales leadership, autorità con tutti quegli alleati che entrano in gioco, Squirrel Girl, Rocket contro i Gregari, Occhio di Falco, Maria Hill, tre segnali di adunata e così via e Roby invece ha usato Ghost Spider aggressione per far fuori i vari Gregari. Che cosa è successo? Che, pur essendo lo scenario abbastanza difficile perché all'interno del set c'era anche il set sinistri 6 quindi con Minion Tosti, Dr. Octopus piuttosto che Craven e così via, in realtà a un certo punto Ghost Spider è morto. Cioè, l'eroe usato da Roby è morto per una serie di effetti incredibili di attacchi di Ultron l'uno dopo l'altro con una potenziamento a 3 e così via che ci mancavano ancora forse una quindicina di punti allo stadio 2 allo stadio 2 giocando esperto quindi al primo stadio di fatto. Beh, insomma, dopo averci chiacchierato un attimo mi ha detto proviamo a portarla avanti lo stesso e qui vi rimando al video andate a vederlo perché è stata veramente una partita col coltello tra i denti ce l'abbiamo fatta cioè abbiamo vinto la campagna e lo scenario finale giocando praticamente tutto lo stadio 3 con solo un eroe pur avendo come dire i segnalini accelerazione avanzamento e così via come se fossero due eroi e soprattutto i punti vita di Ultron come se fossero due eroi per cui quando siamo proseguiti allo stadio 3 Ultron aveva 54 danni 54 punti ferita che per un eroe sono oggettivamente tantissimo anche perché poi tra l'altro Miles Morales non è questo grande output di danni che uno diceva beh Miles Morales fa danni a manetta no tra l'altro Miles Morales poi è oggetto di una delle prossime analisi degli eroi quindi il prossimo mese andate a vedere se vi fa piacere Miles Morales bellissima partita veramente bella anche soddisfacente perché l'abbiamo impostata con i colori giusti dicendo cerchiamo di di rushare lo stadio 2 di Ultron a differenza di quello che si fa di solito di solito si cerca di stare il più possibile nello stadio iniziale e stare meno nello stadio finale noi invece abbiamo detto no siccome l'effetto di Ultron 2 è più cattivo se vogliamo di Ultron 3 cerchiamo di lasciare Ultron 2 per stare in Ultron 3 prima possibile poi con Ultron 3 respiriamo però intanto cerchiamo di farlo fuori insomma tutto questo ha portato una partita veramente bella tirata un fine di campagna soddisfacente per cui ringrazio Roby e anche epico se vogliamo perché poi andare a chiudere con un eroe morto e l'altro che da solo ha fatto fuori Ultron tra l'altro in questo diciamo intreccio amoroso tra Ghost Spider e Miles Morales devo dire che è stato veramente veramente bello soddisfacente divertente quindi se avete occasione non perdetevi questa campagna trovate anche poi link in coda a questo video se no se cercate sul sul canale la trovate senz'altro quindi valida proprio bella ci siamo proprio divertiti bene io spero che questo pillole di gioco vi sia piaciuto è stata più colloquiale del solito se vogliamo ma appunto lo scopo è proprio un po' un po' questo spero vi abbia dato anche qualche spunto per le vostre partite per insomma i vostri scenari e così via con questa rubrica ci riaggiorniamo il mese prossimo io vi ringrazio vi ricordo che attiva la pagina Instagram oltre a quella Facebook di Dovera Condor se vi va passate a seguirla metto sempre su le news i link e così via quindi può essere un modo utile anche per seguire quei video che vi piacciono di più di altri vi ringrazio ciao alla prossima